A un certo punto devi scegliere chi sei e cosa vuoi. Mi chiamo Ru e sono tossicodipendente. Stai per iniziare un nuovo capitolo? C'è una nuova ragazza in città con cui credo che farai amicizia. Sono Ru. Io sono Giuse. All'improvviso tutto il mondo diventa buio e l'unica cosa che conta è la persona che sta davanti a te. Sono invidioso della tua generazione. A voi non importa molto delle regole. Stanno cercando qualcosa che dia un significato a tutto questo. Ogni volta che mi sento bene penso che durerà per sempre. Ma non è così. Niente dura per sempre. Ho un'idea. Dovrei preoccuparmi. Credi che la riabilitazione sia rimasta pulita? Insomma, non serve a questo. Se potessi essere una persona diversa... Lo sarei. Tesoro, prenditi il tuo tempo. Sei fragile. Devo provare a cambiare. Devo farlo per coloro che amo. No servito prima. No servitazione sia rimasta più tardile. Addit di lunga alla prossima. No servitazione sia rimasta più tardile. Grazie a tutti.